È stata approvata oggi in giunta la delibera, la presa d'atto della convenzione stipulata, la convenzione tipo tra gli albergatori e la protezione civile per quanto riguarda le condizioni di ospitalità e i tempi di ospitalità degli amici aquilani che sono rimasti senza un'abitazione. Devo dire che c'è stato un atteggiamento di grandissima solidarietà. Nessun timore deve esserci riguardo al fatto che qualcuno possa essere in qualche maniera rimandato indietro fin quando non ci saranno le condizioni strutturali per l'ospitalità, le possibili ricadute negative su un comparto molto importante per la regione Abruzzo, quale quello del turismo e su questo abbiamo posto l'attenzione del Governo alla necessità prioritaria che vi sia una grande azione congiunta per il rilancio dell'immagine turistica dell'Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali. Il Governo ne ha preso atto, ha lo studio delle iniziative così come le abbiamo noi, nei prossimi giorni ci sarà sui maggiori canali televisivi nazionali un'azione di comunicazione esatta sul fatto che comunque la stagione turistica abruzzese andrà avanti e che l'Abruzzo è pronta ad ospitare i turisti in maniera tale da evitare le disdette che in una situazione del genere ragionevolmente possono arrivare. In più partirà una grossa azione di promozione proprio per ricollocare l'immagine turistica abruzzese nel posto che merita. Abbiamo delle disponibilità assolute, abbiamo delle disponibilità di sostegno anche dai media nazionali sotto questo profilo, ci sono progetti che sono in via di definizione e questo è l'impegno successivo a questa fase che dovremo assolutamente portare avanti. Già da martedì, cioè dalla giornata di domani, ci sarà un incontro con l'Enit a Roma e giovedì sarà presente qui in Abruzzo il sottosegretario con delega al turismo e l'onorevole Michela Brambilla proprio per parlare di queste questioni. Grazie. 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 Grazie.